La chiamata è arrivata ieri intorno alle 14 alla centrale operativa delle capitanerie di porto da un telefono satellitare, ancora un SOS, ancora un barcone alla deriva nel canale di Sicilia, come avviene ormai quasi ogni giorno in quella zona di mare. In questo caso si trattava di un'imbarcazione quasi sul punto di affondare a circa 100 miglia da Lampedusa, con 100 persone a bordo che hanno dovuto attendere più di 8 ore per vedere i soccorsi arrivati a tarda sera. I 100 migranti, che hanno detto di essere di origine eritrea, tra loro anche 21 donne e 4 bambini piccoli, sono stati prima messi in salvo da una nave della Guardia Costiera e poi affidati a una nave mercantile diretta verso Siracusa. Ieri era stato un pattugliatore del Frontex, l'agenzia europea che coordina i controlli alle frontiere, a salvare altre 116 persone, tutti siriani, come gran parte degli immigrati che arrivano in queste settimane in Italia, in difficoltà su un gommone a largo di Lampedusa, moltissime, le donne e anche i bambini a bordo sono stati tutti fatti salire su un mezzo della Guardia Costiera e accompagnati fino al porto di Siracusa. Grazie a tutti!